gildarella gildarella che ci prepari oggi de bono ciao amori dici tutto allora oggi prepariamo un piattino fresco 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 va bene allora qui c'ho una bella piantina di radicchio quello tondo eccolo qua che adesso taglio allora poi ci abbiamo i bastoncini di mare eccoli qua e io adesso devo fare una bella insalatina va bene ecco qua insalatina gaiarda e fresca raga che pure oggi fa caldo fa veramente caldo 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 ma proprio tanto caldo allora questa lascio la allora adesso io questa me la taglio tutta a fettine fine 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 ecco le taglio qui a listarelle fine fine più fine le fate e più è meglio eccola qua è bella lavata adesso la strizzo va bene vai gildare gira la rota questo è lo strizzo insalata ecco vai ecco va bene siamo levato tutta l'acqua e bello fatto e adesso la mettiamo qui dentro ma allora adesso allora adesso taglio i bastoncini allora guardate un po allora questi qua vedete come si chiamano questi sono bastoncini del mare al gusto di granchio ecco questi stanno nel banco nel banco frigo vedete sono sigillati uno per uno poi è banchi frigo comunque li vendono anche congelati e questi sono quelli diciamo vabbè freschi non congelati insomma ecco allora questi sono 200 grammi va bene ecco famo così e via allora adesso famo una spremudina di limone dai egir dare volevo vedere stare attenta vai vai egir dare ti è famosa bella che donna tutta a mano certo tre ore a tira fuori c'ha ragione la spina il bottone attacca la spina cosa ma che tre ore per pulire invece così ecco ragazzi eh allora iniziamo un pochettino d'olio voilà eccolo qua eh allora olio extra va bene va bene ecco fatto d'accordo allora poi un pochettino di sale ecco fatto vedete allora poi ci mettiamo un po' di pepe perché ce va e beh il pepe raga non deve mancare ecco un pochetto così vai allora poi adesso metto allora questi sono uno due tre cucchiai di mais eccolo qua vedete ecco fatto allora e adesso mettiamo vai ti è questi ah va bene già ci piacciono i colori qua senza srotola pure fa niente allora adesso ci mettiamo tutto sto limone che ho spremuto un limone abbiamo spremuto va bene e poi girate tanto il radicchio sembra tanto ma tanto adesso questo si appassisce un pochettino perché questa la dovete preparare un pochettino prima eh di mangiarla così si insapolisce bene poi che ne so potete mettere più bastoncini come vi pare a voi ma io faccio sempre sta dose così va bene eh voilà ecco qua metto un altro po' d'olio perché ci vuole e adesso una bella giratina ecco fatto eccola qua eh la nostra insalatina di radicchio al gusto di mare è pronta mamma mia raga come profuma guardate che spettacolo e adesso ce l'andiamo a mangiare ma quanto vi piace da uno all'infinito mamma mia allora adesso prima di mangiarla la mettiamo nel frigo va bene la facciamo rifrescare bene bene e poi ce la mangiamo e fatela anche voi perché è gustosissima è buonissima è delicata favolosa guardate che meraviglia pure come antipastino quando c'avete gli ospiti che ve lo dico a fare va bene amori adesso tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda lo sapete che vi amo tutti è piatto ricco mi ci ficco e dalla cucina di Gilda e dalla cucina di Gilda e dalla cucina di Gilda